E se non sai Raffellini, te te siga o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Si conclude un'altra edizione, la 68esima edizione del David di Donatello, il premio cinematografico più importante del nostro paese, del cinema italiano. Che edizione è stata questa edizione del 2023? Ma è stata un'edizione sicuramente complicata per quanto mi riguarda. A parte che è stato complicato seguirla, perché come vi avevo anticipato, ieri sera c'è stata una partita decisamente importante per tutti gli amanti del calcio, in particolare gli interisti, come me, e i milanisti, per cui giustamente la priorità è andata alla passione sportiva, almeno per ieri non era possibile che andasse diversamente. Però all'intervallo, a fine partita, la mattina seguente, ho avuto la possibilità di recuperare un po' la serata nel complesso, sia come serata a tutti gli effetti, sia proprio per quanto riguarda le premiazioni. E credo che questo sia l'aspetto, come sempre, più importante. Mi è sembrata una serata, per il resto, fluida, molto ben gestita, ben condotta. D'altronde è Carlo Conti, per quanto mi riguarda una certezza. Bravissima anche Matilde Gioli, che da Nerazzurra sarà felice anche di come è andata la partita. E bellissimi gli omaggi, Davide La Carriera per Marina Cicogna, Isabella Rossellini, Enrico Vanzina, apro subito una parentesi, è stato un momento assolutamente toccante ed emozionante per quanto mi riguarda, credo, per tutti gli amanti della commedia, della commedia italiana, della commedia all'italiana e anche di quel cinema leggero, definito troppo spesso cinema di serie B, cinema spazzatura, ma soprattutto quel bel cinema che va ben oltre i film comici o i cinepanettoni, i film dei fratelli Vanzina che ci hanno regalato 40 anni di leggerezza, ma anche di emozioni, di storia italiana, tanti generi, tanti attori diversi, tante storie diverse, quindi sicuramente un premio, come Enrico giustamente ha detto, condiviso con il fratello Carlo, ma anche con il padre Stefano Vanzina in arte esteno, padre della nostra commedia, esponente di un grande cinema, ovviamente, del passato, ma che resta sempre e resterà per sempre, quindi momento importante soprattutto, oltre che emozionante, un momento anche di grande rivalsa, di grande rivincita per tutti noi che da amanti di questo genere ci siamo sentiti attaccati dall'intelligenza, dai radical chic e da coloro che hanno sempre in realtà bistrattato questo tipo di cinema, perché alla fine è piaciuto a tutti, soprattutto per quanto riguarda i film più riusciti, tra l'altro omaggio anche a Sapore di Mare e Vacanze di Natale a 40 anni dall'uscita, pensate un po', 1983, nelle sale entrambi i film, pensate un po' che cosa significasse andare in sala e godersi due film cult come Sapore di Mare e Vacanze di Natale nello stesso anno, quindi intanto l'omaggio e il David speciale meritatissimo al grande Enrico Vanzina, giustizia è fatta, ecco, assolutamente in questo caso posso dirlo. Poi i premi, credo che sia, come dicevo, l'aspetto più importante, ci sono state delle sorprese, assolutamente, ho azzeccato forse metà dei pronostici, i pronostici ovviamente che avevo esposto nel video precedente un paio di giorni fa non combaciavano sempre con le mie speranze, per cui avevo già pronosticato delle cose, penso alla miglior sceneggiatura originale che ho preso per la stranezza di Roberto Andò, che magari non ritenevo fossero giuste, però ho cercato di ragionare oggettivamente e di pensare a quello che sarebbe potuto succedere, quindi ho pensato a quel mix di meritocrazia, politica, convenienza, importanza, diciamo, risonanza poi anche mediatica e anche a livello internazionale per ogni film e per ogni categoria nello specifico. Ci sono state però tante sorprese. Io direi di andare con ordine, partiamo dal miglior film, partiamo dal premio più importante, l'ha vinto Le otto montagne di Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch. Un bellissimo film, senza dubbio, ma meritava di vincere miglior film? Il miglior film di questa stagione cinematografica italiana? Sinceramente su questo avrei i miei dubbi. Nella mia top ten dello scorso anno l'ho messo in una buona posizione, anche se ovviamente sotto ad altri film, ma credo non ci fosse paragone per esempio un capolavoro come Esterno Notte, ma anche film candidati come Il Signore delle Formiche, che tra l'altro è rimasto vergognosamente a secco di premi e direi anche Nostalgia, che ho trovato superiore. Oltre a siccità che non è stato considerato, anche se poi due premi l'ha portati a casa, e questa è stata per me una bellissima sorpresa. Quindi contento sicuramente, bellissimo film, però io non riesco ad accontentarmi ragazzi, perché il David di Donatello non è come una partita di calcio. L'Inter non vince lo scudetto, però dai l'ha vinto il Napoli, non c'è grande rivalità e soprattutto è meritato. Non è la stessa cosa, perché il David si decide a tavolino. Si decide tecnicamente, si dovrebbe decidere in base ai film, agli attori, agli addetti ai lavori, alle maestranze che meritano di più. Quindi non posso dire, vabbè, tanto è un bellissimo film. Certo, avesse vinto una ciofeca, o avesse vinto la stranezza che è un buon film, ma che secondo me non c'entrava nulla con gli altri, allora sarebbe stato diverso. Ma perché non deve vincere Sternonotte, che è stato considerato, credo anche all'unanimità, o poco ci manca, il miglior film dello scorso anno, per quanto fosse originariamente una serie? E quindi ci siamo tolti il primo sassolino dalle scarpe. Comunque, un bellissimo film, contento per i due registi, per Borghi e Marinelli, per tutti i bravi attori del film, resta la delusione per Sternonotte, ma comunque, vince un bellissimo film. Miglior regia recuperiamo, vince Marco Bellocchio, che paradossalmente poteva anche non vincere la miglior regia, essendo una regia anche molto televisiva, perché si parte dal prodotto seriale, e quindi magari in questa categoria si sarebbe potuto premiare qualcun altro. Come lui stesso ha detto, non me l'aspettavo, però lo accetto, ed è stato divertentissimo. Con questa battuta, a differenza del miglior film che Sternonotte doveva, come detto, assolutamente vincere. Miglior attore protagonista, poco da dire, sacrosanta la vittoria di Fabrizio Gifuni, strepitoso in Sternonotte. Miglior attrice protagonista, c'è stata una sorpresa. E io, sinceramente, per quanto ritenga che Margherita Bui e anche Penelope Cruz meritassero di più, avevo pronosticato, infatti, Penelope, sono molto contento, perché credo che Barbara Ronchi, attrice che tra l'altro amo, sia stata bravissima nel film Settembre, che ha vinto, tra l'altro anche, come avevo pronosticato, il premio per la miglior regista esordiente. Credo che sia stata bravissima, e soprattutto, come detto, è un'attrice che amo, presente e futuro del cinema italiano. Primo David, la prima candidatura per Barbara Ronchi, che lo vince a 40 anni, ma ha già una carriera importante alle spalle, sono sicuro che sarà, a tutti gli effetti, grande protagonista del nostro cinema di oggi e di domani. Per cui, attenzione, perché siamo testimoni di un passo cruciale nella carriera di una grande attrice italiana. Miglior attrice non protagonista, Emanuela Fanelli, Io ho sbagliato, ma sono contento, perché ha vinto Siccità, e ha vinto sicuramente un'attrice che meritava. Dispiace per Aurora Quattroocchi, che poteva vincere sicuramente alla sua veneranda età per nostalgia. Però, contentissimo per La Fanelli, che ci ha sorpresi tutti, e che soprattutto arricchisce di poco, perché so pochi, il palmarès, diciamo, di Siccità, quel grandissimo film di Paolo Virzi, inspiegabilmente sottovalutato. Forse perché troppo scomodo. Miglior attore non protagonista? Io non lo so, devo parlare, devo commentare. Allora, Francesco Di Leva viene da due interpretazioni che io ho molto apprezzato, nelle quali mi ha stupito. Perché non lo considero un grande attore, nonostante già in passato avesse fatto delle cose interessanti, soprattutto in commedia, però, Mixed by Harry e L'ultima notte di amore, lì era stato veramente bravo, ma certamente non in nostalgia di Mario Martone. Ma se anche fosse, facciamo che è un mio problema, sono di parte e non me ne rendo conto, perché c'è sempre il beneficio del dubbio, come fa? Come fa a vincere Di Leva ai danni di Elio Germano, Tony Servillo, Fausto Russo Alesi e Filippo Timi per le rispettive grandissime interpretazioni? Questa è la domanda, se ce l'avete, datemi una risposta. Comunque, grande colpo di scena da parte mia, non compreso e non apprezzato. Poi ci sono i premi tecnici, qualche sorpresa, migliori effetti speciali per Siccità, sono contento, pensavo Diabolic, ma va bene così. Grande sorpresa per la miglior canzone originale, vi avevo detto che Elodie bisognava comunque tenerla d'occhio, io amo Elodie, tra l'altro, quindi sono molto contento per lei, però credo che la canzone di Diodato, se mi vuoi, per Diabolic, fosse la più bella. E credevo che magari Mengoni, vista la sua importanza in questo momento, in bocca al lupo tra l'altro a Marco per l'Eurovision, daglie tutta per il nostro paese, potesse avere qualcosina in più in questa categoria. Però credo che, insomma, ci possa stare anche una vittoria per Elodie, dobbiamo anche essere flessibili, non è che ogni volta se c'hai una preferenza e vince un altro, poi ti devi arrabbiare, anche perché, ripeto, amo Elodie, voce straordinaria, donna incredibile, quindi contentissimo per lei, che ha esordito nel film proprio in Ti Mangio il Cuore, del bravissimo Pippo Mezzapesa, tra l'altro anche come attrice protagonista. Miglior sceneggiatura originale, La stranezza di Roberto Andò, come avevo immaginato, adattata alle otto montagne, premio giusto, mi sarebbe piaciuto veder trionfare almeno lì il Colibri, ma è un altro film incredibilmente sottovalutato, comunque, ripeto, Le otto montagne è un bellissimo film, per quanto secondo me non meritasse il premio al miglior film, e quindi sono contento. Qualche dubbio sulla miglior composizione, vince il Pataffio, credo che la colonna sonora di Esterno Notte avesse qualcosina in più, però sicuramente anche il Pataffio è giusto, che abbia un riconoscimento, certo, ce l'ha il Pataffio e non ce l'hanno il Signore delle Formiche e il Colibri, ma ovviamente sono categorie diverse, quindi va bene così. Concludo chiaramente a proposito di grande dispiacere, salutando e ricordando Enrico Aldoini, che se ne è andato proprio ieri durante la serata, che poi Carlo Conti ovviamente ha anche ricordato, annunciando nella scomparsa, regista di tante commedie divertenti, protagonista del nostro cinema e della nostra commedia. Quindi un caro saluto ad Enrico, che portiamo tutti nel cuore. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa 68esima edizione del David di Donatello, e speriamo che la prossima sia magari un pochettino più meritocratica, se non chiedo troppo. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!